Nel corso del CDA della Fondazione Città della Pace, il Presidente della Regione Marcello Pittella ha riconfermato l'impegno a sostenere le attività della Fondazione, tentando così di esportare anche in questo modo il nome e l'immagine della Basilicata all'estero. La riunione del CDA si è svolta alla presenza del Premio Nobel per la Pace Betty Williams, che ha fortemente voluto l'insediamento della città ispirata ai principi di solidarietà ed accoglienza a Scanzano Ionico e a Sant'Arcangelo. Per il futuro saranno messi a disposizione della Fondazione ben 1.800.000 euro, che serviranno ad attivare 35 posti di accoglienza che potrebbero però essere raddoppiati. Intanto a febbraio Sant'Arcangelo, dove ci sono abitazioni che già accolgono i rifugiati, vedrà la propria popolazione ospite aumentare di 20 unità, 10 bambini e 10 rifugiati che hanno già la famiglia nel comune lucano. Queste risorse permetteranno l'impegno per alcuni giovani lucani che diventeranno operatori specializzati nei servizi di assistenza, di mediazione linguistica e culturale e di supporto legale. Commossa, Betty Williams ha ribadito la volontà di restituire il futuro ai bambini, costretti a fuggire con le loro famiglie dai luoghi in cui sono nati. La Basilicata si conferma dunque terra di accoglienza e di solidarietà verso chi soffre. Betty Williams, un artefice di primo ordine nel mondo, che onora la Basilicata e la sua presenza e soprattutto trasferisce nel mondo la qualità dell'accoglienza e della società lucana e questo ci fa molto piacere. Noi irrobustiremo nei prossimi anni, almeno nei prossimi tre anni, l'apporto della regione, così come non l'ha fatto nemmeno negli anni trascorsi, in modo da sostanziare una programmazione che volta all'accoglienza dei bambini, dei ragazzi dai paesi in guerra e poi trasferire attraverso una buona azione di marketing e di comunicazione le peculiarità che la nostra regione ha e trasferirle nel mondo e recuperare, né in Basilicata, anche testimonial attraverso le relazioni di Betty Williams che possono rappresentare valore aggiunto per la nostra regione. Proprio da qui partirà un decreto di legge che verrà portato in consiglio e che tenderà a realizzare un cambio di passo per gli immigrati e per i rifugiati. Ciò che sta accadendo un po' più nel mondo oggettivamente ci chiama ad una responsabilità e io penso che questa nostra regione possa dare un segnale di grandissima civiltà come con la Fondazione per la Pace e così anche sul tema dei rifugiati.